Mi chiamo Matteo Grisanti, sono titolare della pizzeria d'asporto Non Solo Pizza, una microimpresa situata a Felina, nell'Appennino Reggiano. Sono venuto a conoscenza dei bandi del Galle tramite i social network e il web. Mi sono rivolto a un'associazione di categoria che mi ha aiutato a parteciparvi. Tutto questo investimento, questo progetto, era all'incirca di una spesa sui 25.000-26.000 euro e grazie al contributo del Galle si riesce a riportare a casa un 50% attraverso questo investimento. Ho acquistato tre macchinari che sono il generatore di lievito madre, un armadio ferma lievita e un forno per la cottura delle pizze e degli altri prodotti da forno nuovo. Il generatore di lievito madre mi ha permesso di passare dal lievito di birra appunto al lievito madre e di rigenerarlo tutti i giorni. L'armadio ferma lievita mi permette di gestire tutto il ciclo di lievitazione senza subire influenze esterne, dandomi più stabilità al mio prodotto. L'acquisto del forno mi ha permesso di aumentare la quantità e la varietà dei miei prodotti e allo stesso tempo mi ha portato un risparmio energetico.